Sarà Edoardo Bennato l'ospite di punta di Bennato 2024, l'evento del Comune di Matera organizzato per festeggiare il Capodanno. L'iniziativa è in programma al Parco del Castello Tramontano e si svilupperà in due giornate, domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio. Tutti i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa organizzata nella Sala Mandela del Comune. Oltre a Edoardo Bennato, atteso in città nei prossimi giorni, il 31 dicembre si esibiranno anche i tarantolati di tricarico e la sera successiva sul palco saliranno i Ragnatela Folk Band e i Rena Nera. 330 mila euro circa il costo dell'intera operazione nel 2022, 312 mila euro circa quello del 2023. In particolare il compenso per il comparto artistico con l'IVA raggiunge una cifra di poco superiore complessivamente ai 147 mila euro con affidamento alla società materana Quadrum SRL. A questa cifra si aggiunge quella dei diritti SIAE per oltre 8 mila euro e anche circa 156 mila euro per gli allestimenti del concerto per cui il Comune si è rivolto ad una società esterna. Si tratta di un piano safety e security con tutti i servizi annessi e connessi in base alle normative vigenti. Al sesto piano del municipio, dopo l'incontro dedicato alla presentazione delle eventi di fine anno, il sindaco Domenico Bennardi e tutti i componenti della giunta hanno tenuto una conferenza stampa di fine anno. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le attività svolte nel 2023, oltre alla recente approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Grazie. Grazie.